L'inizio dell'anno scolastico è alle porte e continuano i preparativi per affrontare e supportare le norme anti-covid stabilite per la massima sicurezza di studenti e personale scolastico. Mentre per la maggior parte delle scuole i battenti riapriranno il 15 settembre, per i servizi comunali 0-3 anni e quindi nido, sezioni di raccordo e sezioni ponte, la partenza sarà l'8 settembre. Stiamo lavorando per mettere a punto l'organizzazione scolastica, ha spiegato l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano, Samuele Mascarin. L'emergenza sanitaria, prorogata fino al 31 dicembre, prevede per la ripartenza una serie di disposizioni di carattere organizzativo e logistico, che ricalcheranno in buona parte quelle dello scorso anno scolastico e quindi già rodate e sperimentate. Quindi disposizioni legate ovviamente all'applicazione dei protocolli sanitari per garantire la massima sicurezza, non solo per i bambini e i bambini, le studentesse e gli studenti, ma anche per tutti coloro che lavorano all'interno del comparto scuola. Riproponendo uno schema che l'anno scorso è stato particolarmente complesso, impegnativo, anche oneroso, è costato un milione di euro per l'intero anno scolastico al comune di Fano, ma ha consentito di contenere tantissimo i contagi e le quarantene all'interno della nostra scuola. Verranno mantenute anche le classi bolla e tutte le soluzioni organizzative messe in campo lo scorso anno per la rifezione ed il trasporto scolastico. Lo riproporremo con lo stesso anche numero di figure, di personale in questi servizi e questo ovviamente avrà un impegno di spese importante di quasi 300 mila euro da qui alla fine dell'anno, fino a dicembre, ma lo riproponiamo con convinzione perché abbiamo visto che l'anno scorso ha dato dei buoni risultati rispetto al contenimento dei contagi. Per quanto riguarda il Green Pass, ha continuato Mascarin, l'obbligo di possesso ed il dovere di esibire la certificazione verde per il personale operante nell'ambiente scolastico tocca anche le scuole comunali. Ovviamente noi siamo chiamati a verificare il rispetto di queste disposizioni di legge. Il quadro complessivo nella nostra città è positivo nel senso che la quasi totalità degli operatori, educatrici, insegnanti, sostegno, personale ausiliario, refezione, sono assolutamente in regola. Abbiamo per il momento un'unica eccezione che però stiamo ovviamente affrontando nei termini previsti dal decreto legge.